Il muro dell'omertà che da sempre ha contraddistinto il clan dei Piromalli, potente famiglia dell'Andrangheta nella piana di Gioia Tauro, comincia lentamente a sgretolarsi. Secondo indiscrezioni c'è un nuovo pentito, o collaboratore di giustizia, si tratta di Francesco Trunfio, considerato affiliato al clan Piromalli di Gioia Tauro. L'ufficialità si è avuta nel corso del processo, nato dall'inchiesta Spazio di Libertà, a procedimento nel quale sono coinvolti i presunti fiancheggiatori della latitanza dei due boss Giuseppe Crea di Rizziconi e Giuseppe Ferraro di Oppidoma Mertina. Ma questa presunta solidità omertosa intorno a questa dominante cosca della piana, con ramificazioni con altre famiglie dell'Andrangheta, Regina, Calabresa e del Nord Italia, era stata già minata da tempo da altri pentiti. Non si tratta di una isolata defezione, dunque. Nel tempo si ricordano quelle di Arcangelo Furfaro, Marcello Fondacaro, Antonio Russo, Pietro Messiani-Mazzacuva e altri ancora, i quali hanno inferto colpi durissimi alla Andrangheta della città del Porto. Nel corso dell'ultima udienza, il PM della Procura Antimafia di Reggio Calabria, Francesco Ponzetta, ha chiesto ai giudici del Collegio del Tribunale di Palmi, davanti al quale si sta celebrando il processo, l'acquisizione dei verbali di Trunfio. Il nuovo collaboratore di giustizia non è un elemento di vertice del clan Piromalli, fanno sapere dalla DDA, ma conosce comunque dinamiche e i nomi dei componenti di una delle cosche più pericolose dell'Andrangheta calabrese. Il gioiese sta scontando in questo momento una condanna a 14 anni e 8 mesi di carcere, che gli è stata inferta nel primo grado del procedimento Provvidenza, operazione della DDA di Reggio Calabria contro la cosca Piromalli. Proprio mentre si trovava in carcere è stato raggiunto da una nuova misura cautelare per il tentato omicidio di Di Vincenzo Saverino.